Buongiorno a tutti, questo è il video lento numero 5 e spero vi siano piaciute le altre lezioni video e oggi vi parlerò di Michelangelo Buonarroti, poiché sapete molti di quelli che mi conoscono sanno che a me piace studiare le personalità di successo e sapere come pensavano, cosa facevano e Michelangelo quindi è una personalità conosciuta a livello mondiale e italiana quindi siamo contenti tutti, io vi parlo di qualcuno di successo e voi conoscete un artista italiano meglio, comunque imparando italiano, quindi quello che vi ho promesso è imparare l'italiano o qualsiasi lingua in modo interessante, quindi cominciamo subito, allora Michelangelo Buonarroti è stato uno dei protagonisti del Rinascimento e la cosa che mi affascina è che è stato scultore, poeta, artista, tutto quello che vi potete immaginare, quindi pittore anche e allora cos'è che ha fatto? Le sue opere principali probabilmente ve le farò passare anche in immagine mentre ne parlo. Le due sculture che mi affascinano di più di Michelangelo sono la pietà e il David, cioè veramente delle cose eccezionali e quello che mi affascina è la mentalità che aveva nel creare queste cose, ovvero lui diceva che lui vedeva la scultura prima, cioè racchiusa nel blocco di marmo, racchiusa dentro, quindi la sola cosa che doveva fare, lui dice facilissimo, io devo solo togliere il marmo che avanza e far uscire la scultura, quindi il presidente aveva una visione della scultura che voleva avere e questo è chiarissimo, è una cosa fondamentale come dico sempre anche nella vita, devi sapere dove stai andando e lui vedeva la scultura prima di averla creata, la vedeva, sapeva, era lì dentro, quindi facile, togliamo il marmo in eccesso, diceva, e quindi uscirà la scultura, fantastico no? Quindi un'altra cosa, un altro minutino vi parlerò di Michelangelo, quindi oltre che scultore il Papa una volta gli chiese di dipingere il soffitto della Cappella Sistina, tutta la volta della Sistina, no? E Michelangelo gli fa, ma io non sono un pittore, questo è fuori dalla mia zona di comfort, no? Non sono un pittore. E nonostante ciò decise di farlo e è uscito un lavoro straordinario, davvero, io non ci sono ancora stato e non vedo l'ora di andare a vederla, ma davvero una cosa straordinaria, anche a vederla solo in immagine è qualcosa di immenso, pensare che una persona abbia fatto questo e, visto che a me piace appunto vedere come pensano queste persone, quando qualcuno gli disse il tuo talento è straordinario, Michelangelo rispose, se sapessi quanto tempo mi ci è voluto, ci ho impiegato ad avere questo talento, no? A creare questo talento, saresti meno sorpreso. E questo lo stavo leggendo anche in questo libro fantastico Talent is Overrated, che è veramente così praticamente. Il talento è una piccola parte, è una piccolissima parte, può essere il 5%, comunque se volete saperne di più di questo vi consiglio questo libro, Talent is Overrated, ve lo consiglio davvero perché mi piace. Quindi ecco, tutto qua, è davvero una grandissima persona e adesso se volete anche ascoltare la versione veloce la caricherò presto o può essere che sia già caricata quando state guardando questo video e parlerò ancora di Michelangelo, ma in modo veloce, ok? Ciao ciao! 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 Ciao!